Devo dire che è stato praticamente già detto quasi tutto, quindi penso che sarà un intervento breve. Mi dispiace che non ci sia Rossi, Sarti è un destino comune evidentemente, però ci sei te, quindi possiamo parlare. No, non vi sentiamo mai. No, ma la battuta era legata al fatto che giustamente il collega Sarti ha fatto questa considerazione su Rossi. Mi dispiace che non ci sia nemmeno Pampagioni, mi dispiace che non ci siano praticamente anche Scaramelli, perché io credo che una commissione sanità praticamente è assente su una questione come quella dell'aeroporto. Assente, manca il presidente, manca Pampagioni, manca il vicepresidente. C'è un vicepresidente. Consigliere Quartini, la prego. Avrei preferito che ci possa. Dopo magari chiedono la replica per essere la commissione. Avrei preferito che ci possa. La prego, grazie. Perché vedete, la Piana Fiorentina è un tossico, è un tossico dipendente la Piana. Il livello di nocività, di inquinanti che ci sono, associati all'inquinamento della città di Firenze, è metaforicamente un tossico dipendente quella Piana. E noi che cosa stiamo cercando di fare? La vogliamo eliminare completamente attraverso un overdose. Noi siamo lì a cercare di arrivare a determinarne una morte chimica. Questo è quello che sta succedendo nella Piana. Ci si fa l'aeroporto, più grande, 2400 metri, ci si fa l'inceneritore, diamogli il nome che si merita, non valorizza proprio niente, ma assolutamente avvelena i cittadini. Vi dico, le stime sono, grossomodo, non andiamo troppo più in là, però le stime sono che probabilmente con il nuovo aeroporto arriveremo a circa 4600 eccessi di ipertesi nell'area. Eccessi vuol dire che sono in più rispetto agli ipertesi che ci sono ora. Ipertensione arteriosa, fattore di rischio più importante dopo la malnutrizione di cattiva salute al mondo. 3,4 casi di infarto in più rispetto agli attesi. 9700 persone con problematiche enormi, si chiamano annoyance, sono problematiche legate all'umore, legate alla depressione, legate a problematiche di questo tipo. avremo 5.000 residenti che presenteranno disturbi del sonno. Questo a causa dell'aeroporto. Poi ci sarà una serie di tumori legati all'inceneritore. Ci si fa un parco di 7.000 ettari lì accanto, così chi va lì a fare i picnic si becca tutti questi inquinanti. Io credo sia un buon percorso in termini di capacità della politica, visto che si dice che la politica deve avere un primato, di difendere e proteggere i suoi cittadini. Io da questo punto di vista sono estremamente critico, estremamente preoccupato, perché credo che è un progetto, questo dell'aeroporto e il sistema di squalificazione della piana, Fiorentina, che state portando avanti da tanto tempo. Grazie, potete allontanare quelle persone, grazie a quella persona. Le altre mi sembrano rispettose del dibattito. Grazie ai commessi, per favore. Credo sia un progetto assolutamente diabolico. Perché dico che è diabolico? Perché la parola diavolo viene dal greco, diaballo, vuol dire dividere. Con l'aeroporto voi dividete, voi create le condizioni per una spaccatura con i cittadini. Ed è per questo che non volete la partecipazione dei cittadini, il percorso democratico partecipato. Perché questo è l'aspetto veramente più critico. Perché se il percorso è partecipato ai cittadini, bisogna dirglielo che moriranno di più di infarto. Bisogna dirglielo. Per un'opera che è inutile, è stato detto che la Toscana resta indietro rispetto agli altri paesi del mondo. Perché diventa come Parigi o come Londra e ci vuole 40 minuti per andare all'aeroporto. Ci sa Pisa che è a 40 minuti e non si vuole devastare questa città da un punto di vista di salute. È una cosa, secondo me, assurda. Senza pensare che da un punto di vista tecnico ha sbagliato Giannarelli. Non è un problema psicomorale, è un problema di schizofrenia. È proprio l'opposto da questo punto di vista. Perché qui ci si compradisce continuamente. Il signore che dice bravo tutti. E naturalmente non è rivolto alle persone, è il progetto stesso che è in aperta ambivalenza e contraddizione. Una volta dice 2000, una volta dice 2400 metri, un'altra volta ci fa vedere. Io ho visto, sarebbe bellino leggerle tutte, le valutazioni di impatto sanitario. Sono cinque pagine scritte piccine. Il NURV, che è una delle poche cose che gradisco a questo punto, ha espresso un parere chiarissimo. È invalutabile. Addirittura a 50 anni siamo qui e ancora non si è valutato l'impatto sulla salute. E che ci si staffa da 50 anni in un posto, ancora non si sa dove calano venti, che cosa succede. Ma è una cosa incredibile. Allora, meno male, meno male, c'è il NURV. Cioè, meno male. Ma ci è voluto tutto questo tempo. Ma mi sembra veramente incredibile. Io credo sinceramente che, c'è Bambagioni, ha parlato di credibilità della politica. Io credo che se si dice che la politica deve essere credibile, non possa essere né incredibile, come è in questo caso, né non credibile. Perché non è credibile la politica in ottica etica, quando, sapendo che questa opera è un'opera inutile, che probabilmente danneggerà i cittadini, noi si fa lo stesso. Questo si chiama malvagità. Ecco che di nuovo siamo di fronte a un progetto che è diabolico. Assolutamente. Perché divide. Divide. Non ci troverete mai d'accordo su un'opera di questo tipo. E non troverete d'accordo i cittadini, i comitati, sono tutti arrabbiati, stanno partecipando sempre di più. In questo senso vi si ringrazia anche, perché finalmente avete riacceso un po' il dibattito. Ma attenzione, perché da questo punto di vista, come dire, giocate veramente la credibilità della politica. Grazie. Grazie.